Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Sono tornata in macchina senza la mia ring light, però ragazze, mi è arrivato il pacco e l'ho messo direttamente in macchina apposta per registrare. Sono andata al lavoro e adesso sono qua che registro. Ho fatto un ordine da Veronica Orlando, la trovate sia su Instagram che su Facebook, poi sotto nell'info box vi lascio comunque il suo nome e il cognome o il link del suo canale Instagram. Adesso vediamo cosa riesco a fare, comunque Veronica Orlando. Lei è siciliana e ha una bancarella in Sicilia dove appunto vende trucchi, non trucchi, fascette, sciarpe, detersivi, ha un po' di tutto, principalmente detersivi, ma comunque vende di tutto. Io ho fatto un ordine con lei tramite Whatsapp, l'ho contattata tramite Facebook perché ho visto che su YouTube già c'erano altri video tipo Eleonora Mocio, la Cati, altri video dove facevano vedere i suoi prodotti. Madonna che buono che è questo correttore, adesso ne parlo. L'ho contattata, poi ci siamo scabbiati il numero di telefono perché è ovviamente il metodo più veloce. Mi ha spedito il pacco giovedì, mi è arrivato ieri che era lunedì, Sicilia-Verona, direi che i chilometri sono tanti, considerando che c'è sabato e domenica di mezzo, sono stati comunque veloci. Il pacco è arrivato tutto perfetto, tutto imballato, quindi fantastico. Lei mi ha fatto anche una magic box, penso che la metta in tutti gli ordini però con un minimo di spesa, ecco adesso non so come funziona ma lei poi vi spiegherà assolutamente tutto. Ho pagato col bonifico ma si può pagare anche con postpay ma per queste cose più dettagliate voi contattate direttamente lei e lei risponde a tutto, vi spiega tutto. L'unica cosa ragazze è che io e lei abbiamo avuto un qui pro quo perché lei è sommersa di ordini da fare assolutamente, quindi ricordatevi più di una volta come volete fare il pagamento, cosa volete, cosa non volete, perché davvero è piena di ordini, perché ho visto poi le foto che insieme al mio ordine ne ha fatti partire altri un sacco, quindi ricordatevi semplicemente, ecco, per il resto comunque è disponibile. Allora veniamo a noi, ho comprato questa fascetta qui che è una fascetta semplicemente blu di lanetta diciamo con i glitter, comodo perché almeno la uso sia al lavoro sia fuori al lavoro. Poi sto indossando questo Magic Lip Gloss che eccolo qui, c'è in colorazione fucsia e rosa, vi dico più o meno i prezzi ma non vorrei dirvi stupidate perché alcuni li ricordo, alcuni no. Questo mi sembra costi sui 2 euro, guardate che bello il pack a rosa. Cos'è? Allora, vi ricordate quei rossetti arabi che andavano di moda una volta, che erano verdi, voi li mettevate addosso in base alla vostra colorazione, temperature eccetera eccetera, vi dava un colore diverso da ognuno di noi comunque sulle labbra. Questo qua penso sia una sorta di quel rossetto lì arabo magico diciamo perché è un gloss che poi messo fa, vedete il fucsia, viene fuori subito il fucsia e il gloss rimane, dopo un po' il gloss se ne va ma rimane il colore. L'ho provato anche ieri, non so dirvi se hanno trans o che perché non ho messo la mascherina, però vi assicuro che le labbra rimangono morbide, lucide, però poi il gloss se ne va e rimane il colore sotto. A livello di durata dura un po' di più di un gloss, non è come quel rossetto magico lì arabo però dura un po' di più di un gloss classico, quindi carino. Se non sbaglio anche questo deve costare sui 2 euro, non vorrei dire una stupidata perché questo era nella magic box, guardate, me l'ha impacchettata, praticamente lei è stata gentilissima perché mi ha regalato delle cose che io avrei comprato, quindi insomma fantastica, io le avrei prese e lei me le ha regalate, quindi ottimo. Non lo apro perché ho un altro eyeliner, questo colore è nero da utilizzare, ma qua dice niente, non dice niente. Comunque il pack è fantastico. Poi ho preso questo correttore qua che è una sorta dell'Instant Age di Maybelline, eccolo qua, la colorazione è un po' scura purtroppo, la 04, le altre mi sembravano troppo chiare, comunque promette di coprire la qualunque. Allora, io l'ho già testato, l'ho messo sulla mano, vedete che effettivamente è scuro, è che sono cadaverica, però vedete, cioè è davvero scuro. La profumazione ragazze è buonissima, è gigante, non mi ricordo questo quanto costa, a dire la verità, semmai vi lascio dei prezzi sotto perché avevo fatto lo screenshot di alcuni prodotti, ma comunque lei vi comunica tutto assolutamente, poi ci sono le foto dove già ci sono i prezzi inclusi. E vi dicevo che questo qua è la profumazione di glicine, secondo me, è molto profumato di fiori, glicine e gelsomino. Buonissimo, adoro questa profumazione qua così fiorita, è un po' scuro, dovrò capire quest'estate se mi abbronzo un po' o mettendo le goccioline per schiarirlo come può funzionare. Usandolo, perché si spalma bene per quello, però comunque per me, sì, io sono cadaverica. Voglio capire ragazze se è no trans, se si appiccica da qualche parte, in modo da capire se si può usare anche come fondotinta, diciamo così. Sapete, in estate a volte si usa del correttore come fondotinta, un po' di cipria e via. Comunque vi assicuro che è coprente, sì, devo provarlo sul viso, ovviamente, però vi assicuro che è coprente. Secondo me sì, si dovrebbe mescolare bene per quello, però credo sia trans, visto... Cioè, non sia non trans, credo che proprio si spappoli in giro, ecco. Poi ho preso queste due palettine, lei vende due palette a 6 euro, queste me le ricordo. Adesso le apriamo insieme perché avevo chiesto degli swatch ma non c'erano e li facciamo insieme. Uh, questo è duo chrome, ragazze. Io ho fatto questo qui e questo è duo chrome proprio. Tanto ho comprato anche da lei le salvette. Quindi vediamo un po', poi mi pulirò con le salvette struccanti. Mamma mia, ragazze. Guardate che spettacolo. Questo è il duo chrome che vi dicevo e poi questi qua sono gli altri due. Devo dire che sono davvero scriventi. Proviamo il bianco. Eccolo qua. Sono polverosi ma non troppo polverosi. Bellissimi. Io pensavo fossero un po' poco scriventi. In verità no, assolutamente vi dico che scrivono. Guardate i colori fantastici, veramente. Questo qua non è così scuro. Belli, belli, belli. Sa anche il profumo. Ma sono spalmata sul naso. Com'è che sa questo profumo buono di rosa? Sembra l'acqua di rose di Neutro Roberts. Questa palette è unicorn. Dice che è cruelty free. Made in PRC. A parte la paraffina liquida che comunque ci sono negli ombretti. Ho visto che è fatto di talcomi, il cacao lino e coloranti ovviamente. Quindi niente di così brutto diciamo. Ecco. E poi l'altra ho preso questa qui. Adesso la apriamo sempre insieme. Peccato che non abbia gli swatch. Perché secondo me se gli facesse andrebbero a ruba. Anche questi colori davvero super pigmentati. Me li metto sulle dita ragazze. Perché non so più dove mettere la roba con il discorso del correttore. Ragazze cioè. Fantastici. Vorrei sapere cos'è questo casino. Guardate che. Beh super pigmentati per costare. Così una miseria vero. Fantastici. Assolutamente fantastici. Penso che comprerò altre palette. Perché economiche ma super 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 scriventi. Quindi super promossa. Adesso ragazzi apriamo una salvietta. Struccante. Che così almeno. Proviamo quelle all'acido ialuronico. Adesso ve le faccio vedere. Però almeno mi strucco in diretta. Perché di solito ho sempre la borsa con le salviette. E ovviamente questa volta non ho niente. Ma tanto. Le salviette struccanti a me fanno sempre comodo. La sento ben imbevuta. Sembra che anche il tessuto sia fatto bene. Allora se non sbaglio. Queste qua costavano un euro e trenta. Ma credo che siano un po' aumentate. Mi pare le abbia messi a un euro e cinquanta. Ragazzi d'altra parte. Cioè è aumentato tutto. Io non so se avete sentito. Ma anche il caffè. Lo vogliono portare a un euro e cinquanta. Qua a Verona. Qua a Verona già si aggirava. A un euro e un euro e venti. Comunque. Adesso lo vogliono mettere a un euro e cinquanta. Perché è aumentato le bollette. È aumentato tutto. Noi siamo stati a Brescia. E l'abbiamo bevuto a novanta centesimi. Ci sembrava una roba. Cioè. Fuori dal mondo. Quindi capisco benissimo. Che anche i rivenditori. Che ha negozi. Che ha bancarello. Che purtroppo devono aumentare i prezzi. Se li aumenta l'oro. Di conseguenza devono aumentarne anche per noi. Dovrebbero aumentare. Dovrebbero aumentare. A quelli del governo. Però ragazzi non voglio entrare in polemiche. Perché veramente ormai ci stanno ammazzando. Tra tasse e tutto. Vi dico che ha struccato tutto. 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 Strucca bene. Il tessuto è buono. Davvero. Perché si può anche piegare e riutilizzare. Ci sono alcune salviette che si piegano. E non funzionano più. Invece queste anche piegate. Stanno funzionando molto bene. Allora. Le ho presi. Tutti e due da provare. Questi erano i gusti. Diciamo. Bava di lumaca. Struccano. Nutrono. E detergono in un unico gesto. 25 salviette. E acido ialuronico. Per tutti i tipi di pelle. Per una pelle pulita. Detersa. E naturalmente luminosa. Con aloe vera. Ah. Eccola ragazzi. Il marchio è Seta Blu. Che ne parla sempre tanto. Mando un bacio. Antonella. Del canale. I consigli di Antonella. Da me Seta Blu. Non si trova. Allora. Guardiamo l'inci. Ah. Purtroppo un peg 6. Che è bassino. Il peg 40. Che va bene dai. Comincia ad essere un po' più altino. Però un peg 40. Ok. Tralasciando che poi. Ci si deve sempre lavare il viso. Vero. Ci si strucca con le salviette. Ma ci si deve lavare il viso. Poi. Tetrasodium e DTA. È un po' inquinante. Però comunque. È una cosa. Che viene smaltita nel secco. Non viene. Sì. Magari i residui. Si possono aggregare con l'acqua. Però ragazze. Non è fatto assolutamente male. Penso che le ricomprerò assolutamente. Se dovessero. L'inci anche di quelle altre. Sono uguali. Se dovessero strucare così bene. Anche il viso. Ragazze. Perché no. Perché no. Ho preso anche. Il cerchietto. Adesso non mi ricordo. Se me l'ha regalato. Lei nella magic box. Perché. Ero curiosa. Quindi. Ho provato tutto. Questo cerchietto marrone. Questa è la fascia. Blu. Adesso me la tiro via. Perché in macchina. C'è caldo. Adoro i cerchietti. Perché ragazze. Li utilizzo. Non solo quando non ho voglia di pettinarmi. Mi faccio lo scignone. Mi infilo il cerchietto su. Speriamo che le perline. Tengano con i lavaggi. La laverò a mano. Sicuro. Ma anche. Ragazzi. Guardate che bella che è. Ma vi dicevo che. I cerchietti li utilizzo anche. Quando faccio la skin care. Quando metto le maschere. Ok. Bene. Gli acquisti make up. Sono finiti. Passiamo anche ai detersivi. Ho comprato questa manopola. Qui c'erano di varie colorazioni. Io in negozio. Non la trovavo ragazzi. Ho girato mille negozi. Ma trovavo quello per pulire per terra. Ma mai la manopola. Questa serve per spolverare. Cioè intanto. Dato che ci sono la provo. L'ho provata anche ieri. E davvero spolvera bene. Si butta in lavatrice. Cioè. Ottimo. Super veloce. E ciao. Praticamente. Questo costa un euro. Quaranta panni. Marche è l'unico. Sono i panni cattura polvere. Io ne ho visto parlare bene. Tra le sue recensioni. Di altre ragazze. Che avevano acquistato da lei. Tramite Instagram. Eccetera eccetera. Perché poi. Si vedono anche nelle stories. Dove fanno le recensioni. Ho visto che tanta gente. Li mette in un contenitore. E li fa imbevuti. Come quelli della Swiffer. Per intenderci. Voglio provarli intanto da secco. E poi magari studierò una ricettina. Per provarli anche da imbevuti. Tanto per un euro. Faccio presto. Farglielo mettere nel pacco. Ecco. Ho preso appunto. L'aciglitter. Come vi dicevo. Nell'altro video. Questa qua. Costicchia un po' di più da lei. Io l'avevo trovata in offerta da Tigotà. Ma non so l'offerta. Poi. Quanto dura la Tigotà. E a prezzo pieno. Quanto costa. Però ragazze. Insomma. L'ho infilato nel pacco. E se si può aiutare qualcuno. Perché no. Ecco. Ecco. Bottiglia con plastica riciclata. La sto utilizzando ragazzi. E mi sta piacendo da morire. Sapete che io non amo le cose chimiche. Troppo chimiche. Questo quindi. È bomba chimica. Però ragazzi. La scecchero. La metto nel water. E come dice ombretta. Ombretta mia. Ho il water fashion. È perché è super glitteroso. Cioè. Voglio dire. Cesso. Ma. Cesso glitter. Poi ho preso una bottiglietta di alcol denaturato. Pensavo fosse profumato. Invece no. Dice. Odore gradevole. È ok. Comunque l'alcol in casa fa sempre comodo. Io mi disinfetto anche tipo gli orecchini. Ho dovuto rimettere l'orecchino. Perché al lavoro non posso mettere gli orecchini. Mi si era chiuso il buco. Tenete presente che sono arrivata al lavoro. L'ho tirato via. Ho lavorato meno di sei ore. Perché stiamo finendo presto. C'è poco lavoro. L'ho rinfilato. E il buco era già chiuso. Ho avuto un problema con questo orecchino qua. Ce l'ho da una vita. Con questo buco qua. Ma spesso si chiude il buco. Fa il sangue. Quindi. Di solito disinfetto anche con questo alcol qua. Ho l'alcol. Quello l'isoforma opposta disinfettante. Ma spesso disinfetto orecchini eccetera eccetera. Anche con questo alcol qua. Quindi è sempre comodo a tenere in casa. Poi. Questo me lo ricordo. A 3 euro. Ho preso l'alba gel. Da me c'è alga. Ma non c'è alba. Non so se. Alla fine cambia solo il marchio. Ma è la stessa cosa. Però io questi prodotti qua. Non li ho trovati da Tigota. Il pannetto sì. Il pannetto per esempio. Questo qua. Ce l'ho anch'io. Di alga. Lo sgrassatore ce l'ho. Ma. Questi qua fatti così. Non ce l'ho. Qua dice. Non ho capito la differenza. Lei dice che uno è più. È un igienizzante. Uno smacchiatore. L'altro no. Non ho capito forse. Ma. Dovrò chiedere. A lei. O guarderò online. Insomma. Se c'è qualche recensione. Perché a me sembrano. La stessa cosa. Anche la dicitura è uguale. Qua dice. Dal buon sapone ecologico. Alba. Alba anche in gel. Lavatrice. Pulito fresco e morbido. 33 lavaggi. Qua dice invece. Il buon sapore ecologico. Quindi la stessa cosa. Alba gel. Pulito fresco e morbido. In mano lavatrice. Quindi mi sembrano. Tutti due detersivi. Insomma. Da bucato. Comunque. Uno sono 18 lavaggi. Costa 1 euro e 50. 1 euro e 49. No. 1 euro e 50. E questo qua invece. Costa 3 euro. Ragazzi. Però vi dico. Che ci sono stati degli aumenti. Quindi. Non so se andranno ad aumentare. Non fate affidamento sui miei prezzi. Guardate sempre le sue storie. Chiedete a lei. Perché lei ha detto che. Aggiornava tutto. Ecco. Non vedo l'ora di provarlo. Questo qua piccolino. Lo apriamo insieme. Ne ho comprati due. Uno. Lo regalo. Voglio annusarlo. E stasera. Farò. Una lavatrice apposta. Se ho voglia. Perché ieri ne ho fatta una. Stasera dovevo fare il cura lavatrice. Vediamo se ho voglia. Mamma mia ragazze. Che bontà. Sta da Marsiglia. Sapete la spuma di champagne. Lo Chanteclair Marsiglia. Eccolo qua. Cioè. Puro puro. Sta da Marsiglia. Però c'è un misto di qualcos'altro. Che non riesco a capire. Comunque. Qua dice. Vediamo. Prodotto da Simone. Non so chi sia. Da una ricetta centenaria. Nasce un nuovo rivoluzionario. Prodotto alba. Gel ecologico. L'olio di cocco. Grazie ai suoi speciali ingredienti. Dona ai capi un pulipotto brillante. E fresco. Questo qua piccolo. Questo qua grande. Uguale. Dice la stessa roba. Da una ricetta centenaria. Nasce un nuovo rivoluzionario. Prodotto alba. Lavatrice. Gel ecologico. L'olio di cocco. Quindi bocchiderò. Meglio a lei. Mi sembrano la stessa roba. Sono in formato diverso. Ma non c'è problema. Perché tanto. Anche fossero uguali. Le lavatrici si fa. Quindi i detersivi si consumano. Bene ragazzi. Poi magari nei prodotti terminati. Vi farò sapere. Cosa ne penso. Sia dei detersivi. Sia di quelle robe lì. Sapete che io apro. 6.000 robe in un colpo solo. Quelle robe lì. Intendo salviete struccanti. Eccetera eccetera. Ecco. Vi metto il link sotto. Adesso me lo devo assolutamente ricordare. Vedete che il gloss si è un po' seccato. Però è rimasto il rosso. Il fucsia più che il rosso. Fatemi sapere se voi la conoscete. Se volete acquistare qualcosa. Ripeto. Portate pazienza perché davvero lei è piena di ordini. Ha un sacco di lavoro da fare. Quindi ricordatevi delle robe più volte. Però vi assicuro che poi il pacco lo fa. E quello che ordinate arriva insomma. Anche lei magari vi chiederà più di una volta. Ma vuoi questo? Non vuoi questo? È così ragazzi. Quando si ha tanto lavoro è così. Quindi anche voi prendetevi dei giorni di tempo per comunicare con lei. Sto scherzando. Veronica ti saluto. Grazie. Lei gentilmente si è iscritta anche al mio canale. Quindi grazie. Le cose fantastiche. Prodotti davvero di qualità. E sicuramente ci vedremo per un altro ordine. E quindi di conseguenza ragazzi ci vedremo per un altro video. Noi qua. E fatemi sapere dai se andate a provarlo anche voi. A provare a comprare qualcosa anche voi. E cosa poi comprate o meno. Ecco. Bene ragazzi. Io sicuramente andrò a ricomprare le salviette struccanti. Perché sono fantastiche. Andrò a ricomprare il panno. Se mi dovesse trovare bene. A parte che comunque un euro è una miseria. Veramente dentro ce ne sono 40. Quindi il prezzo assolutamente ci sta. Questo cioè sarebbe. Adesso tiro via questo filetto. Sarebbe da averne uno per ogni stanza. Veramente. E vediamo un po'. Sono curiosa di provare i gel appunto detergenti per la lavatrice. Veramente. 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 Questo voglio provarlo. Magari dopo lo provo sulla faccia. Se mai vi mando. Vi allego poi alla fine una foto. Vediamo. Il gloss mi è piaciuto un sacco. L'eyeliner ripeto non lo apro. Però il pack è fantastico. E ragazzi. Cioè andrò di palette. Palette proprio. Perché. Io ne ho provate così. Ne volevo una sola. Poi giustamente lei mi ha detto. Guarda una 3.50. 2.6 euro. Allora ho detto. Ma sì dai vabbè. Metti dentro una e una. E ok. Però ragazzi. Cioè. Non pensavo della scrivenza. Ero titubante sulla scrivenza. Non pensavo fossero così scriventi. Assolutamente. Bene ragazzi. Questo è quanto. Ripeto dai. Fatemi sapere un po' nei commentini. Sono curiosa. È sempre bello condividere gli acquisti degli altri. Mi mando un bacio. Ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.